Assessore, verso i 20 anni del Consiglio Comunale a Mignanego, siete il comune della Valpolcevera che ha iniziato prima con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per queste elezioni qua abbiamo pensato di fare questo librettino che è appunto Verso i 20 anni, che festeggeremo il prossimo anno. È un librettino che abbiamo fatto con i nostri fondi e abbiamo dovuto cercare tutti i sindaci che si sono succeduti in questi anni e è stato molto piacevole trovare ormai dei ragazzi molto grandi che però ricordano questa esperienza con tanto entusiasmo. Logicamente anche loro hanno detto delle cose positive e anche qualcosa negativo, nel senso magari della non realizzazione di sogni che pensavano potessero esserci. Però è stato bello vederli già adulti e comunque che ricordano la cosa con molto entusiasmo. E poi tra l'altro all'interno di questo nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi c'è anche un assessore che fa parte dell'opposizione praticamente, di una lista di opposizione. Sì, è proprio il bello di questo Consiglio Comunale che un consigliere che è stato eletto mai in una lista di minoranza, Bersanetti e Gioele, hanno deciso tutti insieme di farlo diventare assessore all'ambiente, che è una cosa secondo me fantastica, che anche i grandi dovrebbero forse imparare certe cose, perché è una cosa, in effetti poi le tre liste lavoreranno insieme tutti per lo stesso scopo.